E' tra i protagonisti annunciati del match, si trova di fronte alla sua ex squadra. Ancora pochi istanti e poi si comincia. Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra, quest'oggi aumenta di decibel sulle tribune. Pierluigi Pardo e Lelia Dani vi augurano buon divertimento, vi invitano a non cambiare canale. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A, match che promette gol e spettacolo. La formazione ospite viene da due buoni risultati nei primi impegni stagionali. Fin qui hanno fatto anche meglio del previsto, ma è ancora presto per capire dove potranno arrivare. La classifica per ora deve essere la loro ultima preoccupazione. L'importante è rodare i meccanismi per farsi trovare poi pronti più avanti, quando la stagione davvero entrerà nel vino. La classifica per farsi trovare, un'altra volta non hai ma questo per i miei un'altra volta non hai ma questo. Oppure i meccanibili. Ecco con l'aiuto della grafica la formazione nero-verde del Sassuolo 4-3-3 il loro modulo di partenza con una punta d'area di rigore due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno occhio alla loro velocità E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo la difesa passaria Dovranno sempre tenere d'occhi i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura Grazie per essere qui oggi e buon divertimento Si comincia Pellegrini Entra con decisione Occhio cerca l'area di rigore Verardi Grande intervento in chiusura Cross calibrato bene ma i compagni non lo sfruttano Matic Manovra con tanti passaggi questa Porta palla Cross in mezzo Azione che non ha portato a nulla Avanzano a caccia del momento giusto Possono passare in vantaggio Intervento decisivo che salva la porta Verardi Buono qui il recupero del pallone E all'esorbio assoluto con questa maglia Una grande emozione certamente per lui Serviva un altro attaccante per rafforzare il reparto Il tecnico è stato accontentato Era uno dei noni in cima alla lista delle sue preferenze E ora dovrà dimostrare di valere i soldi spesi Una bella responsabilità per lui Apprezzabile questo pallone Sfuma l'occasione Pallone potenziale a caccia del vantaggio Pellegrini Pallone potenziale a caccia del vantaggio Pallone potenziale a caccia del vantaggio Paolo Di Bala Lancio morbido verso il compagno Prova in acrobazia E c'è un gol pazzesco Al volo Efficace qui il lancio profondo a scavalcare il difensore Possiamo apprezzarlo meglio con queste immagini Un gol facile facile ma bisognava essere al posto giusto Al momento giusto Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 Ossesso del pallone che viene recuperato Pellegrini Karzdorp Matic Muovono bene il pallone di Bala Occhio a Matic Conclusione che non va Prasegue nella sua corsa Interviene e sventa il pericolo A metri per avanzare Ci sarà un minuto da recuperare come indica il quarto uomo Prova mettere in difficoltà Matic Arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo Spazio all'intervallo e poi ovviamente la ripresa Partiti Partiti Paolo di Bala Paolo di Bala Lancio morbido verso il compagno Prova in acrobazia E c'è un gol pazzesco Al volo Occhio a Matic Conclusione che non va Pizzera 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 avanza palla al piede hanno battuto una concorrenza ampia adesso è arrivata la firma il marocchino Ziyech ha completato il passaggio al Leicester il suo arrivo è stato accolto favorevolmente dai tifoni e io li capisco Pierre questo è un giocatore dalle grandi qualità tecniche ora aspetta solo il tecnico mettono nelle condizioni di rendere al meglio palla che non è uscita buona giocata vediamo come la sfruttano la mette verso l'area rinvia su questo cross è tutto solo non ha avuto l'istinto giusto sotto porta palla tra le braccia del portiere Karlsdorp puntuale qui il difensore nel recupero il fischio dell'arbitro si ripartirà con un calcio di punizione vi ricordo l'appuntamento con la Serie A su EA TV sfida che vedrà di fronte Sassuolo ed Empoli Pierre è una di quelle partite che non mi perderei per niente al mondo non sto più nella pelle continua il connubio tra calcio e spettacolo qui ovviamente su EA Sports altro appuntamento da non perdere mi aspetto grande spettacolo Pierre sono due squadre che giocano un bel calcio speriamo ce ne diano una dimostrazione pellegrini pellegrini consigli ma cosa ha preso i bagni vanno a uscire bene vanno a uscire bene attentissimo situazione che era complicata tifosi del Sassuolo scatenati provano a prendere per mano la squadra e a condurre il pareggio in questi ultimi minuti la gioca profonda verso l'attaccante lui Patricio risponde alla grande sono andati a un passo dal gol del pari potevano rimetterla in piedi nel finale ma chi ci ha pensato? il portiere a dire di no con un intervento d'applausi e c'è un altro pallone provano a giocare tiro dalla bandierina una delle ultime possibilità per pareggiare c'è il cambio deciso dall'allenato del Sassuolo ma chi ti ha pensato? ma chi ti ha pensato? vuoi? ma chi ti ha pensato? corrisat 3 cambi una volta sola per l'allegatore palla verso il centro dell'aria brutto rinvio, attenzione c'è ancora la possibilità potevano far male da lì avvincula ancora 5 minuti da giocare brutta gestione del pallone ci provano ancora, questa può essere l'ultima possibilità sono riusciti a rimetterla in piedi proprio nel finale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti questa è una bocca impressionante che non ha lasciato scampo al portiere hanno pareggiato dunque 1 a 1 numero 27 Maxime Lopez si va avanti per la norma del vantaggio gran palla profonda e c'è la rete passa l'invantaggio quando manca poco alla fine il tempo è dalla loro parte dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto se vogliono ciuffare almeno il pari rivediamolo questo gol importantissimo che potrebbe valere la vittoria ed è arrivato nel recupero vedremo se la formazione avversaria avrà il tempo ma anche la forza per reagire è finita con la gioia della squadra ospite che si porta a casa i tre punti vincere aiuta a vincere Pier ed è quello che sta succedendo a questa squadra terzo successo di fila una partenza perfetta potrebbe anche proseguire ancora a lungo se continueranno a scendere in campo con questo entusiasmo e questa determinazione e questo gioco ha giocato bene dando un contributo più che positivo alla squadra ha messo il suo sigillo sulla vittoria finale con un gol sudatissimo che è arrivato proprio in zona Cesarini che fatica però che soddisfazione eh Pier è tutto pronto l'arbitro fischia il calcio d'inizio Paolo Di Bala lancia morbido verso il compagno prova in acrobazia e c'è un gol pazzesco e c'è un gol pazzesco al volo occhio a Matic conclusione che non va brutta gestione del pallone ci provano ancora questa può essere l'ultima possibilità sono riusciti a rimetterla in piedi proprio nel finale si va avanti per la norma del vantaggio gran palla profonda e c'è la rete passa l'invantaggio quando manca poco alla fine il tempo è dalla e c'è un gol pazzesco ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista e c'è un gol pazzesco con la rete Grazie ancora per le sue impressioni a caldo, mister